Siamo con Triolo della Visfondi, una partita complicata questa sicuramente per voi, siete stati comunque per un tempo sicuramente all'altezza, poi nel secondo tempo siete crollati forse un po' mentalmente anche dopo l'espulsione di Napolitano. Sì, eravamo un po' rimaneggiati perché il nostro capitano in settimana non si è allenato e quindi oggi non è venuto, nonostante tutto penso che abbiamo fatto un bel primo tempo, poi anche durante la partita abbiamo avuto l'infortunio del portiere Luca Napolitano e anche di altri giocatori, eravamo un po' così rimaneggiati in settimana, ci siamo allenati un po' in file ridotte e quindi diciamo che tutto sommato abbiamo fatto un buon primo tempo e loro sicuramente erano superiori a noi e hanno vinto meritatamente. Origlia che sicuramente è stato uno dei migliori in questa partita, dobbiamo dire che c'era da aspettarsi una reazione da parte vostra dopo il passo falso di Podgora dove non avevate giocato male ma eravate stati traditi da episodi, questa reazione c'è stata soprattutto un bellissimo secondo tempo. Sì, sì, soprattutto come dici te anche dopo Real Podgora che volevamo questa rivincita e il mister ce l'ha chiesto e abbiamo reagito molto bene, questo era quello che volevamo e continueremo così con dei risultati positivi. L'impressione, scusa, è che voi avete molta determinazione nel cercare di vincere le partite, a volte forse nella foga, in questa determinazione esagerate un po', anche nel secondo tempo magari la partita era già ampiamente consolidata dal punto di vista del risultato, qualche protesta di troppo, qualche alteggiamento sicuramente di passione che magari si può evitare perché i cartellini sono importanti da risparmiare nel lungo periodo. Sì, sì, è verissimo, infatti noi la nostra pecca è questa qui che a volte la troppa a foca ci fa andare anche con le espulsioni e le ammunizioni ci manda in difficoltà e soprattutto colpa nostra, è vero. Tutto l'Anzio Lavini ha giocato bene, così come Cencioni che ha dato un suo ottimo contributo in questa partita vinta meritatamente da parte della vostra squadra. C'è stata molta cattiveria, molta determinazione sin dall'inizio, avete preso gol nei primi due tiri in porta presi appunto dalla Visfondi, però poi avete reagito immediatamente e siete stati padroni della partita. Un atteggiamento proprio che avete studiato in settimana questo? Diciamo che ci siamo trovati un po' in difficoltà perché stavamo studiando il Real Podcore e l'abbiamo un po' sottovalutato e poi prese le contromisure che il mister ci ha detto mentre stavamo giocando siamo riusciti ad arrivare a conclusione, arrivando anche al tiro in porta e arrivando anche al vantaggio. Diciamo che gli obiettivi che vi siete posti per quest'anno stanno trovando conferma con quanto state effettivamente facendo, ovvero sia una classifica sicuramente d'alto livello. Voi ci credete alla possibilità di arrivare i primi? Alla possibilità di arrivare i primi c'è sempre il sogno e la speranza di poterci arrivare e dobbiamo concretizzarlo però risultato dopo risultato. Il nostro motto nello spogliatoio è di non mollare nulla e vogliamo continuare a fare così.